Marca Oro Prosecco Doc Spumante Marca Oro Prosecco Doc Spumante è sicuramente il prodotto iconico delle cantine Valdo. Marca Oro viene introdotto in Italia la prima prima volta negli anni 50, quindi è sicuramente per noi lo spumante più rappresentativo, è l'icona della casa Valdo. È uno spumante che presentiamo nella versione Brut, uno spumante che si presenta al profumo con sensazioni molto delicate e piacevoli, ricorda i fiori bianchi, il gelsomino e sensazioni leggermente fruttate che ricordano la mela, la mela golden e la pesca. In bocca le sensazioni e le note floreali fruttate sono corrispondenti a quelle olfattive. È uno spumante molto piacevole, delicato, fine e elegante. Uno spumante che sicuramente può essere utilizzato come aperitivo, ma trova la sua collocazione ideale negli appetizer, nei finger food e nei primi piatti, piatti delicati a base di pesce. Marca Oro, Prosecco Doc Brut, lo spumante icona di Valdo. Brindiamo insieme. Evviva!